La rivoluzione della Rosa e l'anno nuovo non producono la scintilla necessaria in casa Bitonto. Contro Langri arriva uno 0-0 poco utile alla causa, aggravato dal 5-0 consecutivo accanto alla casella dei gol segnati tra le muramiche. Difficoltà che ricadono di conseguenza sulla classifica, con Palazzo e compagni ora in fondo al gruppo con 14 punti. Non c'è tempo per gli esperimenti, Modesto e Santorubo si affidano subito ai nuovi. Ecco Bodo e Molliche in mediana, Zugaro in fascia e Prinale d'Armale nelle punte Figlioli e Palazzo in un attacco orfano del capocannoniere tedesco, accasatosi al Martina. Nell'Angri Di Costanzo preferisce Giorgio Allongo in attacco, Ascione Herrera mine vaganti nel reparto offensivo. O Bodo prova a presentarsi col botto al pubblico dell'Antonucci, destro di controbalzo dalla distanza ma palladino era in traiettoria. Stessa soluzione ma indice di pericolosità differente per l'Angri. Herrera conta i passi e c'entra in piedo la traversa. Tegola per il Bitonto la mezz'ora, nuovo infortuno per Figliolia, al suo posto Ventola. Bella triangolazione Prinale muscati allo a destra. La sotera con il contagiri che trova l'estriata di Mollica sul secondo palo. Gol prontamente annullato per offside dall'esterno Bitontino. Più Angri che Bitonto nella ripresa. Ascione apre e chiude l'azione ma Diame è ottimo nella respinta a due mani. E' sempre il classe 2005 il miglior violino in maglia grigio-rossa. Apertura a destra per Giorgio che non riesce a superare Diame da posizione più che proibitiva. Bitonto non pervenuto. Per poco i pugliesi non perdono dalle mani anche allo 0-0. 93esimo. De Marcos buca le spalle di De Michele e col destro violento supera Diame ma non il montante. De Abendata che sorride in questa occasione al Bitonto. Spigliato nel primo tempo e troppo remissimo nella ripresa. Continuano le difficoltà in zona gol. Solo 8 quali segnati in campionato. Dato aggravato dalle statistiche difensive dell'Angri. Il peggior parchetto arretrato dal raggruppamento. Mugunni dalle spalti per l'ennesima occasione persa. E per il poco invidiabile titolo di Fanalino di coda. Modesto e Santoruvo avranno ora 7 giorni di tempo per amalgamare al meglio la squadra con i nuovi arrivati. Poi sarà la volta della durissima trasferta di Martina. Grazie a tutti.